Elezioni del sindaco di Isernia dovrebbero essere in programma per maggio-giugno ma più di qualcuno parla di uno slittamento a settembre, causa pandemia. Comunque sia i primi a far sentire la loro voce sono stati rappresentati nel Movimento 5 Stelle, che non andranno più da soli, una novità già preannunciata a livello nazionale, ma che a Isernia troverà una delle sue prime applicazioni. L'idea è quella di presentare una lista col proprio simbolo, ma alleandosi anche con altri movimenti, comitati e associazioni per tentare di strappare Palazzo San Francesco al centro-destra. Insomma un'alleanza civica trasversale in grado di essere competitiva vincendo. Intanto il gruppo locale degli attivisti, coordinato da Monaco e Bottiglieri, ha cominciato a definire i dettagli della composizione della lista ed è alla ricerca di candidati credibili, non di personaggi che vogliano fare solo il salto della quaglia. È noto già da tempo, spiegano Fabrizio Ortis e Rosalba Testamento, che il simbolo del Movimento sarà presente sulla scheda elettorale delle prossime elezioni amministrative ed è stata già annunciata all'inizio dell'estate scorsa la possibile apertura dalleanze con chiunque voglia spendersi per il bene di Isernia e intenda condividere idee e progetti nell'esclusivo interesse della città. Il dialogo nei mesi scorsi è stato aperto a tutte le forze della società civile, ai comitati, alle associazioni e alle rappresentanze di categoria, al fine di costruire un percorso comune che riesca a far superare anni di immobilismo che hanno afflitto la città, risollevandola da un degrado che pare inarrestabile. Alle prossime elezioni i pentastellati Sernini potranno così contare sia sull'appoggio della nutrita rappresentanza dei portavoce in Consiglio regionale, sia sui rappresentanti in Parlamento. Una filiera politico-istituzionale che apre il collegamento diretto con il Governo. Un rapporto dal quale non si potrà prescindere per il necessario sostegno ai tanti progetti che già sono stati inseriti nel programma elettorale. La città di Isernia, concludono Ortis e Testamento, non merita di essere svenduta e presa in giro per l'ennesima volta da trasformisti ed esperti di salti della quaglia. Per questo motivo il movimento di Isernia è sempre pronto ad accogliere chi vorrà partecipare attivamente a questa sfida che attende la città nella prossima primavera nell'ottica della condivisione e della trasparenza.